Si terrà lunedì alle ore 15 il nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico sulla questione Treofan. Gli indiani della Gindal, dopo numerosi rinvii, dovrebbero portare finalmente sul tavolo il piano industriale per l'intera azienda, delineando anche le prospettive per il sito di Battipaglia. A fare il punto della situazione, il delegato sindacale della CISL, Alberto Padula. Le speranze sono sempre quelle che ci sia un ritorno di fiamma e siano riavviati gli impianti. Come sempre stiamo gridando e stiamo sostenendo, visto che senza motivo o senza un motivo reale sono stati fermati, per i motivi che ne abbiamo sempre parlato, che ormai siamo stanchi di ripetere e forse anche voi siete stanchi di sentire. In questi giorni avete avuto contatti con esponenti istituzionali o dell'azienda? C'è stata qualche novità in questo senso? No, contatti rilevanti no. I soliti contatti per gli addetti ai lavori, per vedere di preparare qualche documentazione inerente, per dare qualche risposta rispetto al fatto che i lunedì, perlomeno dagli impegni presi nell'ultimo incontro, si dovrebbero portare le motivazioni che loro stanno sostenendo. E quindi abbiamo chiesto un supporto documentale, un'evidenza che vada a giustificare questa loro tesi, che è sempre quella delle nostre perdite. Che noi, ti ripeto, ancora oggi dopo aver trovato ancora questi altri documenti, dopo aver messo insieme ancora questi altri pezzi, non abbiamo trovato. Quindi c'è stato sicuramente qualche contatto, però voglio dire è stato soltanto uno scambio dovuto di documenti. Gli indiani dovrebbero presentare anche il piano industriale lunedì? Sì, dovrebbero presentare anche questo piano industriale. Di tutta l'azienda ovviamente? Sì, e proprio da questo vorremmo prendere spunto, vediamo un attimo cosa portano e cosa dicono, per vedere di capire anche un attimo le idee, se se le sono chiarite su battipaglia. Speriamo le abbiano chiarite anche, oppure per meglio dire, sia meno ombrosa le eventuali decisioni che prenderanno per tutto il resto degli stabilimenti italiani. Grazie.